Fortunata è nata ieri proprio in mezzo alla savana, corre corre l'ambulanza, Fortunata vive e sana. Fortunata legge e scrive e sa pure far di conto, falli in meno o anche le più nella sua divisa blu. Fortunata ha un sogno in testa, nella scuola da un villaggio, diventare una maestra, ma Fortuna, a dirla tutta, non esiste in verità, è bendata, un po' distratta e perciò come si fa? Grazie.